shalom 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 eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al padre yahwah bahashem yahwah shai bahashem bruka kodash e quello che avete appena sentito è la lingua antica ebraica ebraica antica che ho detto tutti i lodi al padre yahwah nel nome di suo figlio yahwah shai e nel nome dello spirito santo luca kodash che sono i nomi veri e voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della great milestone gms per avermi insegnato questa verità che è la pura verità pace e saluti agli eletti della casa di yasharala sparsi nei quattro punti della terra facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto miei saluti shalom e stavo dicendo prima che è molto importante conoscere il vero nome del padre e del suo figlio perché diciamo che tutte le nazioni sulla faccia della terra hanno un dio i malvagi hanno un dio perciò non facciamo ipocriti come come cristiani e altre religioni che credono di avere un dio ma non sanno che nome ha e lo chiama alcuni lo chiamano geova alcuni lo chiamano yahweh e queste cose qui non sono nomi corretti ok questi sono nomi falsificati e coloro che lo amano proprio come dice libro di giovanni 14 15 osservano i suoi comandamenti e cercheranno proprio andranno a cercare la verità sul suo nome come dice il libro di secondo timoteo 8 16 o 16 8 non mi ricordo dunque andranno a cercare di questo libro di giovanni e cercare la verità di giovanni e cercare la verità della falsità ok perciò il padre ci ha messo lo spirito iniziando dai nostri apostoli della great millstone iniziando dall'apostolo tahà e ci è stato rivelato proprio questi nomi veri ok ci è stato rivelato questo nome vero e la lingua ci è stata ridata la lingua ci è stato ridato e anzi ci dovrebbe essere una scrittura che parla di questa profezia qui perdonatemi 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 ok gb si in that day shall five sitting in lana we just speak the language of canaan and swear to death ecco qui si trova nel libro di isaiah capitolo 19 versetto 18 isaiah isaiah 19 18 e qui vedete in quel giorno cinque città nel paese d'egitto parleranno la lingua di canaan e giureranno all'eterno degli eserciti uno sarà chiamato la città della distruzione ok andiamo a vederlo sulle scritture ok perdonatemi libro di isaiah 19 e 18 dice in quel giorno si parlerà la lingua di canaan qual è la lingua di canaan la lingua di canaan è l'ebraico antico perché la terra di canaan è stato promesso ai figli di israele dai tempi di abramo se vi ricordate perciò la lingua era grezza ancora la lingua dell'ebraico antico ok perciò la lingua si intende la lingua ebraico antico in cinque città di egiziane la gente giurerà fedeltà al signore dell'universo ok e infatti come vedete noi stiamo giurando fedeltà al signore dell'universo abbiamo il suo nome nella lingua di canaan che è la lingua dell'ebraico antico ok e il nome del padre è Yahweh il nome del suo figlio è Yahweh Shai ok ci è stato dato questo e volevo vedere qualcosa altro velocemente ci dovrebbe essere un altro un'altra scrittura che parla di questo nel libro di Zeccaria perdonatemi ecco si trova nel libro di Zeccaria 3.9 perdonatemi allora Zeccaria 3.9 cioè questa lezione non l'ho preparato così sto andando attraverso lo spirito e si dice poi che allora rivolgerò al popolo un linguaggio puro affinché tutti possano invocare il nome dell'Eterno per servirlo con un solo consenso vedete e questo sta succedendo adesso è la lingua pura che stiamo parlando perché il padre non lo possiamo invocare senza la lingua pura che è questa lingua qui ok che ci è stato ridato l'ebraico antico e come sapete l'ebraico moderno è composto di Yiddish della lingua Yiddish ok della Bambilonia antica e germanico ok non ha nulla a che fare con con l'ebraico proprio in sé come dovrebbe essere hanno preso un po' di ebraico antico hanno mescolato e hanno fatto hanno fatto un bel misculio ok per esempio le pronunce j i ok e non c'era non c'erano ok e per capirne di più lascerò uno link se mi ricordo se mi ricorderò che ho fatto un bel video sull'origine del nome del padre è un video che dura parecchio e consiglio a chi vuole proprio sapere l'origine di questo nome Yahawa di guardare quel video lascerò un link sotto dunque questa lingua è la Lashawan Kadash che stiamo parlando adesso e perciò quando diciamo Kalalal Yahawa Bahashem Yahawashai Bahashem Bruka Kodash stiamo parlando questa lingua e stiamo dicendo tutti lodi al padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawashai e nel nome dello Spirito Santo Rukka Kodash ok e sì noi dobbiamo fare la nostra parte in questa verità qui perché come avevo detto prima anche i malvagi hanno un Dio ok perché ho sentito dire da qualcuno che basta basta rispettare Dio basta non importa che Dio c'è solo un Dio no questo non è vero questo non è vero è vero sì che c'è un Dio supremo che il suo nome è Yahawa ma come crediamo noi nel Dio supremo altri credono anche in un Dio falso e lo chiamano il Dio supremo qual è la differenza tra noi loro conoscono il nome del loro Dei anche noi conosciamo il nome del nostro Dio conosciamo il nome del nostro potere che è Yahawa questo ci fa la differenza ok e sì questo era un pensiero breve così non volevo fare una lezione lunga poi posterò un video che ho fatto assieme a questo farò un posterò un video che ha fatto l'Apostolo Gabbar e sì spero che qualcuno è stato edificato e lascio tutto questo nel sacro nome del Padre Yahawa BAHASHEM YAHWASHAI BAHASHEM RUKA KWODASH Mie doppio onore agli apostoli e anziani della Gretz Miuston GMS per avermi insegnato questa verità pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala alla prossima Shalom Shalom Shalom